Benvenuti amici, oggi si apre un nuovo capitolo nel mondo del gossip che vi lascerà senza parole. Avete sentito delle ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez su Stefano De Martino? Oggi esploreremo ogni angolo di questa storia intrigante. Pronti a scoprire la verità dietro le quinte di questo scandalo? Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi nessun aggiornamento. Partiamo dal principio. Belen Rodriguez, in una recente intervista a Udomenica In, ha fatto tremare i fan con rivelazioni esplosive riguardo il suo ex, Stefano De Martino. Parole che pesano come macigni, tradimenti e segreti nascosti. Ma aspettate, c'è di più. De Martino, intercettato dall'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, si è visto consegnare il terzo tapiro d'oro della sua carriera. E la sua risposta? Un sorriso e un enigmatico, quanta pazienza devo ancora avere. Ma non finisce qui. Quando Staffelli tocca il tasto del presunto flirt con Alessia Marcuzzi, De Martino risponde con fermezza, sostenendo di non essere il macellaio che la gente vuole vedere. E, attenzione, lancia una frecciatina pungente. L'unico giudice della mia vita è mio figlio. Momenti di tensione e risposte che sollevano più domande che risposte. Che ne pensate voi di questa situazione? Scrivetelo nei commenti. Questo scandalo tra Belen e De Martino sembra non avere fine. Ironia, mistero e una serie di rivelazioni che ci lasciano tutti in attesa di ulteriori sviluppi. Ricordatevi, l'opinione più importante è la vostra, esprimetela nei commenti e continuate a seguire il canale per rimanere aggiornati su tutte le novità di questo e altri scandali del mondo del gossip. Grazie per averci seguito, e non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi per non perdere i prossimi video. Ci vediamo nel prossimo episodio, dove scopriremo insieme nuovi segreti e rivelazioni che terranno tutti con il fiato sospeso. E voi, siete Tim Belen o Tim De Martino? Diteci la vostra. Alla prossima, amici!